Un caso che spacca i sindacati al loro interno arrivando a chiedere il licenziamento di un lavoratore vittima di un incidente all'interno del piazzale di deposito dei mezzi pubblici di una partecipata tua. L'autoservizio Cerella di Vasto. I fatti risalgono ad ottobre quando un autista che cercava di salire sul bus è stato investito dal mezzo riportando una prognosi di 15 giorni. Diciamo che i fatti si sono svolti all'interno del deposito aziendale dove c'era un lavoratore che pretendeva di poter giustamente utilizzare il veicolo dell'azienda per recarsi dal deposito al capolinia gli è stato impedito di salire sull'autobus e di conseguenza il lavoratore che si è immediatamente fatto notare dal conducente sullo spigolo anteriore è stato colpito dall'autobus e scaraventato a terra. Ci sono tre sindacati, Wiltrasporti, Fitticisle e Faisacisal che chiedono il licenziamento di un lavoratore. Diciamo che è stato il loro primo intervento fatto all'insediamento del nuovo presidente Angelo Pollutri come primo intervento c'è stato quello di richiedere il licenziamento di questo lavoratore. Secondo la CGL la richiesta di licenziamento avanzata dagli altri sindacati sarebbe motivata dall'abbandono dell'autista in causa di un'altra sigla sindacale. L'uomo infatti uscito dalla UIL avrebbe poi proceduto al tesseramento con la CGL. Riguarda dissidi interne sindacali ma riguarda soprattutto un accanimento con una parte dei lavoratori io direi tra quattro lavoratori nello specifico di cui il sottoscritto ovviamente ne è capofila che oggi addirittura si traduce anche con un attacco diretto alla presidenza perché si vuole far giustificare in qualche modo gli scioperi che si stanno facendo facendo presso l'autoservizio Cerella come scioperi connessi alla mancanza di sicurezza delle fermate e quindi dell'esercizio, alla vetustata dei mezzi, ai mezzi sporchi, alla carenza di controlli tutte questioni che se vogliamo risalgono a molto molto tempo fa e di cui il vero responsabile è solo ed unicamente il presidente Massimo Cirulli che guarda caso Wiltrasporti, Cisle e Faisa si sono tenuti ben indenni dall'accusare e dal chiederne le dimissioni. Oggi noi facciamo appello in qualche modo al governatore Luciano D'Alfonso e al presidente, il magnifico rettore Luciano D'Amico al quale sappiamo che i sindacati si sono rivolti per chiedere le dimissioni del presidente.